E così alla fine mi hai sedotto e abbandonato. Senti Marcello, forse... forse sto sbagliando, ma adesso non... non è il momento giusto. Una scusa col giornale per tornare due o tre volte all'anno ad Arezzo la posso sempre trovare. Mi è arrivato il taxi. Senti, io solo sempre fui.